Ha cosparso la compagna di un liquido infiammabile e le ha dato fuoco. È successo pochi giorni fa ad Arezzo. L'uomo, un cittadino di origine cubana di 38 anni, ha aggredito la compagna nel sonno, secondo quanto si apprende dagli inquirenti, dopo l'ennesima lite. Dopo aver compiuto il gesto, ha provveduto lui stesso a spegnere le fiamme, ad allertare i soccorsi. È stata la figlia della donna che, percependo un forte odore di bruciato e avendo notato delle bruciature sul corpo della madre, ha richiesto l'intervento del personale sanitario che, a sua volta, ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante della questura di Arezzo e la donna è stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale San Donato. Dopo le cure del caso, è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni, ha riportato ustioni all'altezza della spalla e dell'orecchio. È stata poi la squadra mobile della questura di Arezzo ad eseguire il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria nei confronti del 38enne. L'uomo, che già si trovava sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali alternativa alla detenzione, è stato arrestato e si trova presso il carcere a retino di San Benedetto. Nella ricostruzione dei fatti avrebbe ricondotto quanto accaduto ad un banale scherzo.